Sarà l'approvazione della legge urbanistica, l'ultima grande riforma che il Consiglio regionale si appresta a varare. Poi ci sarà spazio solo per ordinare l'amministrazione e il conto alla rovescia per le elezioni. La ripresa dell'attività politica a settembre, la coalizione centrosinistra, sempre più sfilacciata e con alcune forze, come il Partito dei Sardi, su posizioni critiche e verso l'esecutivo su molte questioni, a cominciare dalla sanità, sarà chiamata ad una prova di unità. Anche per questo, quello dell'approvazione della legge urbanistica, sarà l'ultimo grande obiettivo che si pone all'esecutivo guidato dal Presidente della Regione Francesco Piglielu. Il provvedimento è stato approvato dalla Commissione Governo del Territorio e del Consiglio regionale dopo un lungo dibattito che ha impegnato sia le forze politiche della coalizione che i portatori di interesse. Critica all'opposizione centrodestra, mentre dalle associazioni ambientaliste è arrivata una bocciatura all'impianto complessivo della norma. Dalle associazioni di categoria, da quelle artigiane a quelle del comparto turistico, sono stati avanzati diversi rilievi alla legge, ma si è anche chiesto all'Aggiunta legionale del Consiglio di procedere ad una rapida approvazione, magari con qualche miglioramento da portare in aula. Questo al fine di dare ad importanti settori dell'economia sarda una legge quadro che faccia ripartire alcuni comparti, dall'edilizia bloccata dalla crisi e dall'eccessiva blocrazia al sistema del turismo. La maggioranza, al di là di qualche mal di pancia, sembra decisa a varare il provvedimento nel più breve tempo possibile, anche perché in caso di mancata approvazione della norma le conseguenze sulla coalizione sarebbero imprevedibili e potrebbero portare anche all'interruzione anticipata della legislatura, con tutte le conseguenze che questo comporterebbe in termini politici ed economici per la Sardegna.